Allora, titolo live abbiamo fallito, è un clickbait perché... No, la tua vita? No, la mia purtroppo non è un clickbait. Allora, 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 abbiamo fallito perché io e Ivan ci siamo detti un giorno perché non ci sentiamo al telefono e facciamo un bello schema di tutti i prossimi contenuti delle prossime live, ci organizziamo bene, facciamo tutto alla perfezione. Perché te non ha capito che è inutile, ragazzi, fare questa cosa? Non è vero. Perché con me è impossibile mantenere i programmi. Ma il problema non si è stato da in questo caso, Fra. Fiditi che perché sono io. No, allora, ci siamo sentiti, abbiamo fatto i nostri bei programmi, abbiamo fatto le nostre belle cose. Per questa sera c'era un contenuto bello figo, bello figo, esatto, perché praticamente i ragazzi di Bonehead ci hanno preparato la nostra build, il nostro pc negli scorsi giorni, ma noi siamo sfortunati, doveva arrivare oggi e il caro DHL mi manda la notifica dicendomi caro e di Yanno, col culo che il tuo computer arriva in studio di Zona Rossa TV, ce lo teniamo noi a Milano, nella sede, nella geccenza e quindi ci è sparito il pc da 2400 euro che abbiamo perso così nel vuoto. Vabbè, scherzi a parte, arriverà ragazzi. Grazie.